Grazie a tutti Dove vi mostrerò questa volta le mie capacità su questo gioco Ho visto dallo scorso video che ho avuto abbastanza mi piace Quindi mi sembra che le mie serie vi piacciano Quindi continuerò a farle E nulla, ho visto però che si sentiva molto la tastiera Il microfono non era ottimo e la grafica non era eccellente Quindi su questo gioco invece l'ho migliorata E sui tassi si dovrebbero sentire meno E il microfono penso bene E poi ora me lo riguarderò Spero che questo video vi piaccia E qui con me in questo video ci sarà un altro personaggio Che ha un canale di Youtube che si chiama JustNay Saluta Yeah, 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 bella a tutti Ecco, un bel saluto di merda Ah, qui in 17 iscritti mi sembra È appena iniziato Però è brevissimo un pro Eh, lo so Diciamo, vai, possiamo subito iniziare Che modalità consigli? E poi fare una mobile live Certo, sicuro Nel culo Eh, dai, che modalità facciamo? Mai fai dashmatch, fai dominio, fai qualcosa di così Il dominio mi arriva nel culo Easy, easy, easy Vai, facciamo il dominio, va Allora ragazzi, sentiamo, adesso farò una piccola intervista a Ghost E cominciamo con la prima domanda Spara Nickname Ghost Fai parte del clan? RGDR Sei un po'? Intelligente GAY Ok, vabbè Mi metto gli auricolari e sto zitto Fai zitto, no Si, sono zitto Allora, intanto posa Hardat Perché a me village di farlo Non lo provo Non lo lasciamo perdere, fa cagare il cazzo Io, ragazzi, vi porto questo video C'è su questo gioco, è un po' ino vecchio di due anni fa Mai ucciso Ghost Però, penso Che possa sempre interessare Ghost Non ce l'ho sui computer, ma ce l'ho per DST E adesso troverò un modo per registrarlo Prenderò l'HPWR Penso insomma Vedrò con gli altri del mio LAN Poi porterò anche i video di lì E spero che ti interessa Vector, Vector Eh? Vector, l'altro? Vector e Dynamic E poi c'è Sagittario Che sarebbe Tipo La gente ci ha presente Tipo Google Traduttore Questa roba qui Ovviamente sarebbe lui Insomma Non so che cassa di programmi utilizzano Però non lo so Non me lo chiedere Ah, la gente è normale Ti fa fatica Lui è un po' svogliato Fede Marioita Sì È logicamente Io ho sempre Fede Marioita nel gioco Perché tanto ormai È il mio nome Infatti, non so Vedrete anche voi Che c'è scritto Fede Marioita Non c'è scritto Ghost RKR Anche se sarebbe un bel nome RKR No, l'ho messo però su Ghost Come il nome del clan Ha messo RKR Eh, mamma mia Si muore subito Eh, sì Ah, beh Te belle iniziate Ah, 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 ah Merdone Connessionato Ok, allora Eh, vai Mi ha ammazzato uno Che cazzo di ragione Ma che cazzo Oh, merda Non mi ha salvato il posto Cazzo Ma io adesso non l'ho visto Comunque mi ammazzato La gente Non si sta andando Mamma mia Comunque ragazzi Se volete passare sul mio canale Iscrivervi Insomma Va sempre bene Mi va più che bene Insomma Cioè Questo è quello Che voglio far intendere Non mi fa mai male Ecco Non credo almeno Soprattutto iscrivetevi Iscrivetevi al nostro canale Cioè Il mio Guarda questo Bombardamento Perché la grafica Così di merda No Sto facendo una partita Stavo guardando Che sto facendo una partita Un po' di merda No, ho aumentato la qualità In macchina Porca Inizia a mancare Che cazzo Fateli Ma perché C'è una partita Che a buttare Laciù Collegano Naste Che tra l'altro Io non le ho mai tirate Le hanno Il campo Di merda E mamma mia Per una sera Che è tanto Bene Tasti Ho usato Una tastiera Come USB Capo Per farvi sentire meglio Non so se Come si sentirà Olè Il ritorno Veramente Ah Guarda Il Meno male Ormai Questo Giò è pieno Di connessionati E naturalmente L'ho fatto vedere anche In un mio video Quanto Mv3 Fa schifo Ormai In cui In live Becco una bella Una bella partita Tirata Quindi proprio Distruggono Oh ragazzi E vedo Vedo la volonna Cazzo di merda Eccolo Ma come cazzo Ma come figlio Ma che figlio Che colori di merda Ci sono qui Di cazzo Non è cimento Che è Carta pesta Cazzo è E mamma mia Io le ragazze Faccio Meno fede Maio Non è in negativo Si disastroso E invece si Io sono uno sfigato Del cazzo Quindi ora Passiamo a sbarrettare Col bar Eccolo Anche male Per questo testiere Mi dà anche abituare Quando vi ho visto Questo video Devo cambiare La risoluzione Perchè poi Cazzo Muori Bisogna Ma dove sei A camperare Bolide Che cazzo Io prima col bar Stavo provando A registrare Un video E sto Ad esempio Un risultato Tipo Amori Tipo 22 Una cosa del genere Che pig di merda Bassissimo Ce l'ho E ora Finalmente Non morire No Che cacchio Ecco il mio Il mio computer Pacco Oh Poverino Mi spiace Oddio Spero che muori Una bella kill E poi una bella morte Dagli raga Dagli Grazie Gli approfissionamenti Se troppo gentile Tanto Non altro La campagna Spera chi fosse Del mondo Il mondo Tagliamento di merda Da dietro Allora Ragazzi Muerto Ragazzi Guavvi Tanta roba E' barri Un po' Un po' Un po' Sozzo Sozzo Giubbettini Occiao Potenti Proietti Giubbotti Giubbotti Per grandi Scini c mamma mia i giubbottino i giubbotti giubbottini pro gondi e piccino io che devi da smegno eeeh io sono sempre appena i porti tu madre ok mamma mia no di volo dopo dopo accanto a tutto sto giocando veramente male a questo schermo guarda io tasti mi sembrava più forte di me no a desiderare vai 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 muoviti guarda sì ragazzi in ultima speranza è stato qui che uccide la gente buona ma purtroppo per la caccia alleluia mi sono alzato ma che cazzo è sento dire fede maio perchè allo io adesso non ho capito chi è che dice questo ma io sono mio amico che cazzo stai a fare lì eh io sono qui a cattugiare guarda me sta laggando ma ora sei che è buono ma vaffanculo oh eeeh oh eeeh oh e te devi morire e devi morire e devi morire e morire e devi no 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 io tu mai mia chi ha questo io credo la cr cioè tipo la quarta classe del cambio comunque va bene ecco ho davanti fede maio quindi lui è dietro già voleva 100 anni per farlo fuori no dai ma io sono un aronia oggi via non so in pena quella mi capisiamo a eeeh osprei osprei maio se mai o non può fermarti di certo lì eh a camperare un po' un po' a mamma mia che campe io faccio 13 25 precedente campe e e non vorrei cosa so che la pacca è bravo ma qui c'è la ecco perché però ragazzi i resti sanno già dove sono c'è una cosa un po' pazza no no buono io prendo pure le casse tra il coglione il proprio figlio il coglione di turno ma ma che palle alleluia ne ho fatto una con la scuola 14 28 non riesco più a fare una lì neanche c'è una partita quando devo registrare vuole partite di merda come il solito come il solito bo prendiamo la tastiera c'è c'è sempre partite del cazzo c'è 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 è il doppio storico la metà, la metà delle mie morte sto facendo che cazzo spai che? che cazzo spari? ehi bai! boh, andiamo eeeh dura la vita se mai io so non c'è nessuno qui eeeeeee mi ha mosto con quelle torrette del cazzo me l'amete proprio bacato ma non so perché c'avevo questa grafica di merda poi magari non è che il tuo link di frappe cagare di frappe spero cagare di vuoi fare video più lunghi di 5 minuti? e io come faccio? no no non morire mi raccomando ma non morire neanche ti lancio bella la vita e vai su mamma mia invece c'è la gente e io manco la cago oh si ragazzi ero in serio e non mi metto da dietro fanno buoni lavorini loro e dura la vita fede maio vita ricordate questo detto che disse justny oh yeah è una kill ma almeno è dura la vita è mai vita e quindi finiamo il game play allora fede maio vita oh c'è da dire favore proprio quando vi faccio i video faccio veramente cagare maio vi porterò un video sul cinema vi faccio vedere altro sul pro l'ultimo video è stato per una botta di culo proprio mamma mia oh andiamo ne facciamo andiamo sul vetto ma ho finito il video? no no quanto quanto è? buono ehm ma da quant'è registri ho? ma di fine di minuto non so di preciso male sono rossi gli fps ma quanto il cazzo? t'ho detto di sì eh no perchè sai il mio fraps fa cagare le palle andiamo su effetto vai andiamo su effetto su server? comunque il mio dopo mi dai il tuo link di frox perchè il mio fa proprio cagare i polli cioè 5 minuti ti registri e poi parti non so se hai preso ma che non si apprende proprio nulla eh no da me si apposcono a prendere tante cose tante tante cose ok andiamo ragazzi si vieni su quello di prima si fh la ora mi metto a dare tutti i cp del mondo mamma mia qui c'è piano di gente al prossimo video penso di portarvi su mondo warfare 2 tanto così mamma mia che è un meglio tanto merda è merda rimane ma quell'altro drogatone la ps3 ancora là come? l'altro drogatone il tuo fratello si ancora le drogatone fare le nerdatine andiamo dai no cacchio mi hanno infettato sozzi siete delizio sozzi ah lui mi ha visto tutto un tratto cioè non si sa come mi ha visto dai non li prendiamo i giornamenti no ehi bello dammi le appoggiamenti ehi bello sgancia gli appoggiamenti vai vai grandi ehi bello sgancia ehi bello vorrei che lanci di merda ehi bello dammi le appoggiamenti come più 5 ehi bello come? mi da più 5 più 5 sopravvissuto vabbè tanto poi si dava più 10 non ti preoccupare c'è più 50 mamma mia tanto vero no io spero che si veda bene la grafica almeno cioè cazzo la devo migliorare ma non so perché ho fatto questo perchè non si sa che cosa faceva faceva le nerdatine io so questa mattiera di merda ok ce n'è uno in fondo all'aereo alaereo oddio guardate ho c'è amore ok a 3 ma se ne va o senti non uccidere già snai perché poi verrai maledetto tutta la vita e viva la vita viva che si guarda guarda che mi abbazzi sono tanti mamma mia che li sono sulla linea finita no no perciò di merda maio ciao benvenuto nel mondo degli infettati bella ragazzi sono fede maio bella ragazzi sono fede maio deve essere in qualunque frate no resti soltanto le piste alla campagna per metterla il fatto che ho preso per poco e con un video costante al porto c'è l'ultima no a noi sopra questo nai no dana banzo per fermo i nostri e invece moviti ok ma io bu non riesce a bloccarmi insomma sei un po' svampito senza offesa a qui ghost il nostro grandissimo ghost ecco io si è bloccato a te non sto scherzando ho le vato a ritorno devo seguire fede questo fermo ce ne sono 20 prima ce n'erano 30 ma mia se ce ne puoi via via va vai vai ciao ciao e finiamo anche lì che ora è finito il video è finito attamo a posto cazzo guarda guardate anche lì il mio rato bellissimo mamma mia sei o non so meglio non so peggio e dai finisci questo caso video punti fio video cosa saluto sono just passate sul mio canale molto bello il fogante flesciante anche se faccio un po' cagare insomma spero che mi apprezzate nella mia stupidità e quindi bella da me è tutto ciao ora chiesati vaffanculo levati dalle palle sei sì no allora se ragazzi ditemi se volete anche qualche video di un nuovo gioco non so qualsiasi me lo compro me lo scarico mi porto dei video non so mettete un bel mi piace se questo video vi è piaciuto non mi piace se non vi è piaciuto ma preferirei le teste mi piace commentate e un particolare ringraziamento a justnake che mi ha aiutato no di nulla di nulla di questo nulla perché naturalmente sono troppo famoso io per essere chiamato ecco però comunque il tempo di ci ce l'ho sempre oh il prossimo ci sei ci sei su mv2 vero si fa insieme a voglia a voglia ci sono sempre io i miei amici ci sono sempre va bene bella ragazzi ci vediamo nel prossimo video bella bella